I bambini del leone sono dominati dal sole, sono dei bambini splendenti, luminosi, coraggiosi, simpatici, drammatici, nel senso che ogni piccola cosa diventa un dramma, se hanno un cuccio diventa enorme, perché hanno una creatività immensa e da qualche parte la devono sfogare, da piccolini con le parole e poi appena possono imparano a disegnare e usano molto bene il colore, sono bravissimi nel raccontare le favole, sono i bambini più aperti dello zodiaco, nel senso che fanno amicizia con tutti e come il sole brillano ovunque vanno. E' molto importante rispettare il loro orgoglio, nel senso di non offenderli mai in pubblico, perché altrimenti ci rimangono molto male e poi cercano di vendicarsi oppure diventano molto pigri, per cui dovete incoraggiarli ad esprimere la loro creatività e la loro generosità non facendogli troppi complimenti, tanto loro lo sanno che sono bravi, ma cercando di farli confrontare con gli altri e far capire a questi bambini che ci sono delle regole per tutti e che il gruppo può essere un po' allargato, nel senso che questi bambini hanno un gruppo fisso di amici e poi, siccome sono un segno fisso, si chiudono in questo piccolo gruppo. Invece è importante che loro imparino ad essere sempre più aperti, a fidarsi anche degli altri e che quindi esprimono questa loro capacità di creare armonia anche in un gruppo sempre più largo, in modo che si sentano poi a loro agio nel mondo e non solo nel loro piccolo gruppo, perché sono bambini leali, ma quello che temono più di tutto è di essere traditi da qualche amico e ci tengono moltissimo ad essere riconosciuti come bambini generosi e bambini disponibili e molto aperti. Grazie